E' arrivato purtroppo il giorno, un grosso cambiamento su Monopoly Go e un grosso cambiamento per il modo in cui porto i video di questo gioco Sta finalmente per arrivare in positivo e in negativo dovete dirmelo voi qua sotto nei commenti Se questo video come gli altri di Monopoly Go ti è piaciuto lascia un bel mi piace, iscriviti al canale, attiva la campanella per non perdere i prossimi Qua trovi la playlist ufficiale Monopoly Go Ita con tutti i tutorial che ho fatto e fidati ne ho fatti veramente tanti E qui stai già visualizzando il cambiamento di oggi Oggi sinceramente è un video un po' triste anche perché per l'ultima volta andremo ad utilizzare il percento Cercheremo di fare una speedrun di questo livello mappa e ci teremo a dirvi che non potrò più utilizzarlo Questo perché? Perché dato che non sto giocando tanto al gioco e dato che purtroppo come potete visualizzare i costi degli edifici sono veramente raga Sono veramente 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 alti e io non ho tutte ste ricompense e tutte ste cose che posso andare ad utilizzare Ho deciso di tagliare un po' i costi, i costi di dadi in particolare I costi di dadi verranno tagliati, non so ancora se passerò ad un per 50, ad un per 20 addirittura O purtroppo ad un per 1, questo verrà scelto in base anche a quello che pensate voi Quindi se volete far parte di questa mia scelta potete commentare qua sotto Anche perché so che molti di voi sono affezionati al mio metodo di portare video E devo dire che io continuo ad ammirare tutti coloro che mi stanno seguendo a più di un anno di distanza dal mio primo video su Monopoly Go Veramente sembra di parlare del nulla ma in realtà raga è importante questo aspetto qua Io ho più di un anno che porto il Monopoly Go e voi ci siete sempre E ne sto portando tanti di video, ne ho fatti più di 230 raga 230 video di Monopoly Go, sono tantissimi Continuiamo a martellare perché abbiamo 2 miliardi e mezzo di monete Abbiamo anche un evento a scorrimento che è colpo grosso che ci sto aspettando E quindi come al solito si martella, belli 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 dip No stop come si suol dire Sblocchiamo un po' di monete, un po' di cose, diciamo gagliarde Un po' di robe speciali che mi fanno un sacco piacere Vamos più 5, vamos più 5 un'altra volta Urca qua raga, ho preso un buon moltiplicatore Si parla di veramente tanto 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 alto a livello di moltiplicazioni 4, un colpo grosso che comunque sale GG per il vapor, urca vaia Sono quasi arrivato a 257 milioni dell'evento a scorrimento Non male raga, non male Vamos alla Splyas Ok, ho provato l'elmetto, si è bloccato sul per 3 Ok, schiaccio qua sopra Tirali sta martellata, tirali Bravo vappo, bravo vappo E quindi oggi per l'ultima volta utilizzeremo il per cento Vi dico, penso che veramente sia tanto tempo che utilizzo il per cento Cioè io ho iniziato la mia carriera su Monopoly Go utilizzando il per 20 Poi siamo passati al per 50 C'è stato un periodo che va da ottobre a febbraio dove ho accumulato dadi Per qualche particolarità del gioco sono riuscito ad accumularne veramente tanti E in questo momento sono cambiate delle cose È cambiato un po' lo spawn rate dei dadi Sono cambiati gli eventi collaborativi e la frequenza con i quali questi venivano fatti E il tutto ha significato una sola cosa Meno dadi per il vapor E di conseguenza sono andato in cashflow negativo Quindi il mio numero di dadi che entrava era purtroppo minore rispetto al numero di dadi che usciva E questo pian piano nell'ultimo mese mi ha mangiato ben 14.000 dadi Io non so voi come fate Ragazzi, a parte coloro che veramente giocano tanto e hanno la possibilità di farmare dadi E giocano in modo magari più intelligente Come fate ad avere tanti dadi? È logico, voi direi, hai fatto un sacco di tutorial su come avere i dati di gratis Io però raga in video non posso farle vedere proprio quelle cose Perché è un po' strano la policy di Monopoly Go E quindi non le posso fare E di conseguenza sono un po' stirato alla canna Però vabbè, allora, schiacciamo qua Che non voglio lasciare niente al caso Quindi tutte le banconote, tutti i fogli che io posso andare a prendere Raga, li prendo, lo sapete Più forte di me, io non posso lasciare dei soldi lì Potenziamoci tutto Tutto sugli ultimi due edifici A stecca, raga, smartelliamo per bene Lo so, potrei fare molto molto meglio Ma allo stesso tempo potevamo fare anche peggio E qua, raga, gli abbiamo dato una bella botta Ci c'è poco da dire Ci sono rimasti 67 milioni, è vero Ma abbiamo anche pochi miglioramenti residui da fare E sono contento di questo Andiamo avanti ancora con un per 6 Ok? Godiamoci questi ultimi istanti di per mille Perché ad esempio in questo video Che banalmente dura 8 minuti Io mi sto fulminando completamente Un mille dadi Se non mille 5 Capisci qual è il problema? Il problema è di questo genere Ed è un problema bello grosso Perché io non è che questi dadi li potrò Farmare all'infinito Arriverà ad un punto dove io questi dadi Non li posso più fare Quando arriverà il punto dei dadi Che non li posso più andare a fare Chi me li dà? Cioè questa è una domanda che mi sono dovuto porre Perché io i video di Monopoly Go Devo continuare a portarli E non posso rischiare di rimanere senza dadi Perché non voglio neanche andare a shoppare Io su questo gioco, raga, non ho mai shoppato un euro E sinceramente, devo dirvi la verità Non ho intenzione di farlo Per il semplice fatto che non penso sia La scelta migliore Ma ne parleremo anche in un altro video Riguardo lo shop Perché molte persone mi hanno detto Vapor, però io ogni tanto Ci sgancio qualche soldino a Monopoly Go Cioè se mi piace Un gioco che voglio supportare Anche magari con qualche donazione extra Lo faccio ben volentieri Scelte vostre Io personalmente non la condivido come scelta Non è che vi devo spiegare io il perché Semplicemente non la condivido come scelta Per 3 Andiamo avanti col forzire della comunità L'obiettivo è quello di portarsi a casa Per quanto naturalmente è possibile Un po' di ricompense Altro ok Altro gettone Andiamo qua Ho cambiato un po' giro GG raga Oggi mi sa che era la giornata fortunata del vapor Perché ho beccato Tanti di quei moltiplicatori Sono andato al per 25 E mi sono portato a casa 1 miliardo 940 milione Benissimo Perché sono proprio i soldi che mi servivano Per completare l'ultimo livello di mappa E ci siamo finiti Il livello 200 e 40 Ipoteticamente Dovremmo essere intorno lì Comunque giù di lì 240 C'è incredibile raga Mi ricordavo il mio livello mappa Let's go ski Let's go Siete stati let's go ski Let's go ski Parleremo di adesivi Do jolly gratis Parleremo di un sacco di argomenti Che so che molti di voi Mi continuano a chiedere E io Vi giuro che ve lo devo portare Il video sui jolly Perché purtroppo Molti me lo scrivono nei commenti Mi continuo a dimenticare In perterrito di queste cose Che mi dite E giuro che stavolta Lo facciamo Ok Le missioni raga Le andiamo a prendere Cioè lasciarle lì È proprio una cosa inutile Quindi A questo punto Piuttosto che lasciarle lì Uno se le porta anche A casa Fa un piacere Via Dentro così E ok Siamo arrivati al Vincita veloce Complicata Abbiamo un miliardo e sei Io direi che facciamo Un primo upgrade A tutti gli edifici Così almeno un full upgrade Iniziale L'abbiamo fatto Vi faccio vedere anche Quali sono gli adesivi Che mi mancano Se qualcuno di voi Volesse mandarmeli Può trovare La Diciamo mia Il mio contatto Per diventare amici Su Meropoli Go Qua sotto È fondamentale Ve li faccio scorrere Velocemente Allora dal set Numero Mi sembra 13 Al set numero 21 Sono questi gli adesivi Che mi mancano Se siete curiosi Magari qualcuno di voi Pensa che io gli abbia Diciamo Fatti scorrere Troppo velocemente Basta stoppare Il video Nel momento adatto E guardate E scegliete In base a quello Che appunto Vi capita Di ricompense Ne ho prese tante Di cose Ne ho prese Altre tante Devo dire che Sono veramente contento Lasciate un bel pollicione Iscrivetevi al canale Attivate la campanella Noi ci vediamo domani Alle ore 14 E tra poco Ne uscirà un secondo video Cliccate uno di questi due Che sono uno più bello Dell'altro Ciao 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 Ciao